Preparo con voi per andare al compleanno di una mia amica, a fine video scoprirete di chi si tratta, l'unico spoiler che vi do è che con questa mia amica ci ho anche vissuto un anno, solamente le bebesite che mi seguono da anni potrebbero capire di chi si tratta. Comunque la cremina che ho appena messo, giallina, è super idratante, non lascia colore però, tipo idrata un botto. La serata inizierà con la cena, quindi non so quante ore dovrò stare fuori, perciò voglio fare una base bella coprente, quindi con il fondo tinta che aderisce per bene al viso. Abbondo con un correttore molto molto chiaro e vado a evidenziare queste zone del viso, un contouring in crema di Fenty Beauty e poi vado subito a fissare la maggior parte del viso, tranne nella zona occhi, perché probabilmente tra poco dovrò appunto colorare, fare le mie cose, quindi voglio un attimo aspettare prima di fissare. Terra di Chiara Ferragni, la colorazione numero 01, vado a scurire dove ho fatto il contouring. Aggiungo un po' sulle guance anche un po' di blush sempre di Chiara Ferragni, sempre in combo, anche l'illuminante.